Allora, brevemente un'anteprima di quello che ho comprato tra fine febbraio e marzo Sto iniziando queste serie, scusate, i Kithausen Vabbè, questo è il numero 5 che ho preso di recente, poi ho anche il numero 4 e il numero 1 Gli altri, quelli che mi mancano attualmente, sono in recupero con gli arreglati Eccolo qua Questo è il numero 1 Mi mancano per adesso il 2 e il 3 per completare questi primi numeri Dopodiché il 6 dovrebbe uscire a fine mese Dopodiché ho preso il numero 5 di Full Metal Panic Sigma Adesso anche i primi numeri, ripeto, sono in recupero Ho preso quelli che ho, ovviamente per la mia fissazione di avere manga di antiquariati Insomma, manga d'epoca, eccolo qua Slayers Che l'ho trovato esaurito da tutte le parti Cioè non so sinceramente che cosa fosse più esaurito, se il fumetto che andavo cercando O se fossi io più esaurito di lui, perché c'è veramente, non lo trovavo da nessuna parte Né su ebay, né da nessuna parte, neanche come redrati Comunque questi sono i numeri che andrò a recensire tra breve e più avanti E detto questo vi saluto, grazie ancora dell'attenzione Al prossimo video Grazie a tutti